Tutti in piazza per coinvolgere la città sull'alarme occupazionale a Gubbio. Alle 21 di domani sera è prevista a Gubbio in piazza 40 Martiri una manifestazione di protesta dei lavoratori dell'ex Sirio Ecologica. Veglia notturna per la morte del lavoro a Gubbio è il provocatorio titolo della manifestazione che si dà appuntamento di fronte al monumento del milite ignoto. L'intento è quello di consegnare una lettera aperta alla città. La manifestazione è stata annunciata dalla CGL Alta Umbria e prevede la partecipazione anche di lavoratori di altre aziende del territorio, l'Antonio Merloni su tutte. E intanto i dati che arrivano dalla CGL dell'Alta Umbria, dalla Camera del Lavoro e dall'Inca di Gualdo Tadino poi sono sempre più allarmanti. Nel secondo trimestre del 2013 nei comuni della fascia, Gualdo Tadino compreso, a fronte di 622 assunzioni ci sono state 645 cessazioni con una variazione annua del meno 8,5% di assunzioni. Stesso periodo, gli iscritti ai centri per l'impiego dei comuni della fascia sono 3.342. Sino a settembre 2013 è stata richiesta da 76 aziende la CIG in deroga, interessando 242 dipendenti. Al mese di novembre sono state 311 le domande di disoccupazione presentate dall'ufficio Inca di Gualdo Tadino. L'anno scorso erano 260. Per questo il 15 novembre CGL e Cisle Will hanno indetto una giornata di lotta in Umbria con otto ore di sciopero nell'ambito delle iniziative che sono state indette a livello nazionale per chiedere la modifica della legge di stabilità per il lavoro, per l'equità e per interventi fiscali che portassero risorse al lavoro e ad una riduzione fiscale per le imprese finalizzata agli investimenti e all'occupazione.